Rieccoci insieme con il Bianchiarosso TV Sport e con l'allenatore della Pink Bari Isabella Cardone. O Mangia ha un'equip che gli gira intorno che a Bari non si era mai vista, cioè ci sono diverse figure professionali importanti e ce n'è una in particolare, dico nuovissima però nuova per Bari, cioè che è questo tecnico che analizza i dati della partita con Match Analysis, ma quanto servono questi soggetti? Io te lo saprò dire l'anno prossimo perché è un'introduzione anche nel nostro staff e in quello che intendo proporre alle ragazze e alla mia società. Vedere le partite, analizzarle, è un percorso individuale, cioè permettere ai giocatori di vedere individualmente come si può migliorare. Molte volte non si ha neanche il tempo, spesso quando viene spiegato in un contesto anche visivo e ti permette di superare in maniera più veloce tante difficoltà. È una figura che io sono stata su a Coverciano e mi parlavano che appunto Mangia viene da quella scuola e è un po' un indirizzo che la competenza tecnica sta suggerendo a noi tecnici di farci supportare dalla nuova tecnologia. Non possiamo pensare di poter vedere tutto nei 90 minuti, magari ci sfugge quei particolari e soprattutto possono sfuggire ai giocatori. Io vedo delle cose strepitose di allenatori che magari in situazioni di gioco dopo un gol si vede l'allenatore di panchina tranquillo che continua a prendere appunti come se nulla fosse, per me sono marziani. Quello come dici tu, pure per me sono un po' marziani. Un po' strano, l'ho visto nei mondiali anche, qualcuno che in una situazione di gioco o ha preso il terzo o il quarto gol, continua a prendere appunti. Però proprio ai mondiali hai visto il tecnico olandese che ha analizzato la partita in maniera spettacolare se non ricordo col Messico. Un cambio tattico incredibile, ha cambiato la partita. Come tutti gli strumenti bisogna anche saperli utilizzare. C'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto è Italo Cinque Palmi. È Italo Cinque Palmi che è collegato con noi da Pieve di Cadore e l'inviato del sito Il Quotidiano Italiano. Sta seguendo su web, ogni giorno relaziona attraverso il web del ritiro del Bari. Devo dirvi complimenti anche per il lavoro che stai facendo. Grazie, avete dato una grossa mano anche voi, ovviamente. Quando è venuto Cristian è stato veramente come un capo. Perché no? Italo, non so se abbiamo così, forse non riuscivamo a dare la fotografia. Avete presente Moscardelli e lui, insomma. No, ha la barba la Moscardelli. Italo, chiari a tira oggi? Il Bari tra poco scende in campo contro la Lazio. Intanto ci confermi che la partita è di due tempi di 45 minuti? Voi qualcuno aveva parlato di due e di tre tempi, insomma. Non qualcuno. Era stato proprio il Bari, inizialmente, a dire che la partita sarebbe stata di tre tempi da 45 minuti per dare maggior fatica, capito? Dare un carico maggiore ai ragazzi di calciatori. Però evidentemente dopo questi giorni di allenamento si sono resi conto che fondamentalmente non ce la fanno ed è anche giusto che sia così. Quindi ho parlato con le responsabili della comunicazione del Bari e mi ha confermato che la partita sarà di 90 minuti. Stanno salendo baresi a Pieve di Cadore per questa partita? Anche se la partita si giocherà in un altro posto, non a Pieve di Cadore. Ad Aoronso dove sono adesso? Perché siamo arrivati alle 5, ci sarà la partita con la Lazio, questa prima amichevole ufficiale, se così vogliamo dire, con una squadra di categoria, in questo caso superiore a quella del Bari. E niente, dicevo, noi siamo ad Aoronso perché siamo venuti a montare tutto il nostro materiale, non c'è ancora nessuno, però si parla di 2.000 tifosi per quanto riguarda quelli della Lazio, mentre invece quelli del Bari saranno nettamente inferiori. Io devo dire la verità, ne abbiamo incontrati 150 circa durante la partita che si è tenuta con il Cadore, la rappresentativa locale di qui, però era anche di sabato, quindi è diverso la situazione, siamo in un'infrasettimanale per quanto possa far gola questa partita. Un'ultima domanda Italo, perché insomma tu stai relazionando non tanto l'aspetto tecnico, quanto quello anche del colore di questo ritiro. Qual è il giocatore? Intanto in questo momento Cristian Siciliani mi comunica che è ufficiale Stefanovic al Bari, prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è già in ritiro. Sì, esatto, infatti Stefanovic ci attendeva secondo una serie di fonti alle quali ci eravamo attaccati e Stefanovic sarebbe arrivato appunto nel pomeriggio, quindi è così, noi siamo stati bravi nel scrivere una cosa giusta, va bene così. Senti, un'ultima cosa, quale è il giocatore più simpatico Italo per quella che è la tua percezione? Il più simpatico è Sal, assolutamente. Sal è un personaggio carismatico, incredibile, e mi hanno confermato anche che all'interno dello spogliatoio, tra lui e Sam Nicca, partono degli sketch molto particolari, magari vediamo chi riuscirà ad avere maggiori informazioni proprio su questo, però devo dire che io ho avuto il piacere di parlare con lui, anche avevo una telecamerina in mano, un piccolo messaggio ai tifosi e si è reso molto molto disponibile. E comunque devo dire la verità, noi conosciamo Schaudone, conosciamo tutti i suoi telpi, il suo modo di comunicare con i tifosi, diciamo che ha trasmesso un po' tutto questo al gruppo intero, molto affietato, io devo dire la verità, mangia in questo caso, fa da collante, oltre ad essere molto molto pignolo, però vedo che ci sono anche dei momenti in cui si riesce tranquillamente a ridere e scherzare e lui ne prende parte. Insomma, mi fai capire che c'è un bel ambiente, una bella atmosfera lì in ritiro con il Bari. Grazie a Italo Cinquepalmi, buon lavoro per oggi, il quotidiano italiano in rete e con il risoconto del ritiro del Bari, intanto qui vediamo le immagini di Paparesta e Antonelli in versione sportiva, erano da mesi che non vedevo Paparesta senza giacca e senza caravatte. Allora, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, il sorriso fa sempre bene, la vita come in uno spogliatoio. Quanto è importante, o meglio, può essere un limite l'avere un po' smembrato comunque il gruppo dello scorso anno, perché per una forza di cose questo non sarà più il Bari dello scorso anno, anche se un po' l'anima resta con Schaudon e Defendi, però insomma molti giocatori non ci sono più. Oppure è importante aver salvato una parte di questo gruppo che magari trasmette in modo virale il sorriso anche agli altri. Io credo si vedono da queste immagini, stavo vedendo un po' queste immagini delle partite, una bella intensità, anche da piccoli esercizi si possono fare delle valutazioni. Vedevo una ricerca del pressing, una ricerca... e questo nasce anche da un fatto emotivo caratteriale. C'è una squadra che vuole fare bene e io sono ottimista perché il sorriso di Gianluca Paparesta credo che un po' sta contagiando tutti e questo è positivo. Che Bari dobbiamo aspettarci dal punto di vista, diciamo proprio tecnico, del modo di giocare al calcio? Tu si tratta prima nei dettagli, ma nel complesso, volendo fare una sorta di riassunto? Io spero, io... Bari aggressivo, questo vuol dire? Bari aggressivo sicuramente, se ha puntato di cambiare anche un modo consolidato che alcuni giocatori, anche una società aveva ormai da due o tre anni adottato, vuol dire che vuole puntare per Bari aggressivo, poi anche prima tu mi dicevi dei due centrali, di solito uno tecnico e uno, diciamo, alla gattuso, interditore. Molto spesso, quando magari non si hanno questi giocatori, l'importante è portare la squadra 10-20 metri più avanti, quindi per portarla devi giocare molto aggressivo, per i primi difensori devono essere gli attaccanti. Giocando con esterni alti e i due attaccanti a pressare, già porti una squadra nella metà campo. Ti voglio mettere un po' in difficoltà, anzi facciamo così, prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Ma che roba è, ma che roba è, ma che roba è. Va bene, va bene, salutiamo questo amico, è lo stesso della telefonata finta di Vincenzo Matarese. Ora però ascoltiamo De Luca, che è uno dei giocatori più attesi in assoluto di questa stagione, De Luca che peraltro è un pupillo di mangia. Sentiamolo l'intervista realizzata in ritiro da Cristian Siciliani. Le mie caratteristiche sono la mia velocità, buttarmi negli spazi e soprattutto sono un attaccante e fare gol. Quindi penso che sia la cosa più importante per una squadra, quindi queste sono le mie caratteristiche principali. Diciamo che ha influito molto, perché comunque è un allenatore che già in passato ha avuto in primavera, dove mi sono trovato benissimo, dove l'ho ritrovato dopo il nazionale in under 21. Quindi appena mi ha chiamato io ero subito d'accordo per fare questa operazione. Poi pensavo che alla fine l'operazione non andava più fatta, poi alla fine è stata qualcosa ancora di più concreto e sono stato contento soprattutto per me. Penso che alla fine sia stata la soluzione più giusta per me, venire qua. Ma diciamo che sono venuto qua per dare continuità, perché comunque sono un giocatore che comunque ha sempre voglia di giocare, quindi lì non avrei trovato lo spazio che avrei voluto e comunque scendere di categoria sicuramente non mi pesa, anzi sono venuto in una piazza che è più da serie B e da serie A, quindi penso che la cosa più importante sia scendere in campo partita dopo partita e realizzare un sogno che questa città se lo merita. Diciamo che più che impressionato avevo la paledoga quando vedevo tutto lo stadio video, perché penso che neanche in serie A si vedono dei tifosi del genere, quindi merito a loro, perché dopo tutto quello che hanno passato si meritano quest'anno, come è stato l'anno scorso, grandi soddisfazioni, quindi tutti insieme cercheremo di realizzare questo sogno. Diciamo che le aspettative ci sono, quindi abbiamo appena iniziato, penso che quest'anno con questo Bari qua ci saranno altri giocatori che comunque penso che arriveranno, quindi ci sarà da divertirsi. Beh, io pensavo fosse una leggenda metropolitana, in realtà la possibilità che, non abbiamo detto questo, fosse giusto anche l'epilogarlo a beneficio di chi non fosse informato, il Bari entra in scena nel secondo turno di Coppa Italia, il 17 agosto si giocherebbe al San Nicola, anzi si giocherà comunque al San Nicola contro la vincente della gara Savoia-Terracina. Io pensavo fosse una leggenda metropolitana, me l'ha detto il mio barbiere, ha detto guarda che in Terracina potrebbe giocare Adriano, l'ex attaccante di Inter e Roma, credo, insomma. Sta di fatto che sono andato a vedere sui siti, effettivamente c'è una trattativa incredibile, Adriano-Terracina, cioè Adriano potrebbe finire al Terracina che è una squadra di serie D, io non so in che condizioni si sia ridotto Adriano, però c'è questa prospettiva e sarebbe comunque una vera notizia vedere Adriano giocare al San Nicola, sarebbe una notizia nazionale, credo che verrebbero anche le testate giornalistiche di tutta Italia a vedere Adriano con la maglia del Terracina, è una cosa fuori dal mondo. Quasi vecchie glorie, quindi ritrovo a vecchie glorie. Quasi vecchie glorie, hai ragione, quasi vecchie glorie. Quasi qua si vedi la Cardone giocare, sarebbe questo. Non so come giochi, però immagino che giocare bene al calcio. Allora ti faccio una domanda, poniamo la premessa, sono tutti al massimo della condizione, dei quattro attaccanti del Bari, chi fai giocare insieme? Ricordiamo i nomi, Gio Silva, Caputo, io non lo considero, Gala lo considero esterno, ti metto i due che dovrebbero giocare in mezzo. Gio Silva, Caputo, De Luca e Albadoro, questi sono i quattro attaccanti del Bari, chi fai giocare? Caputo e De Luca. Caputo e De Luca, insomma, tieni in panchina per quanto abbia fatto bene Gio Silva nello scorso campionato. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo, qualche riferimento per quel che riguarda la stagione della Pink, quando andate il ritiro, quando cominciate il campionato? Inizieremo la seconda metà di agosto, faremo dei test e delle visite mediche. Bari, voi non andate da nessuna parte. No, Bari è il nostro centro che ci accoglierà, per cui penso che la prima settimana verrà dedicata a tutta questa fase, anche perché con l'Università di Bari partirà un protocollo d'intesa per poter avere delle basi scientifiche anche sullo sport femminile, per cui abbiamo bisogno di raccogliere un po' di dati e soprattutto per noi tecnici puoi poter anche analizzare in questo discorso anche l'uovo. Inizia il 27 settembre, quindi ci abbiamo un po' più di tempo. Speriamo, io provocatoriamente dico al mio presidente di non fare come Agnelli, di portarmi delle ragazze che abbiano entusiasmo. Non mi interessano i nomi, mi interessano ragazze che abbiano voglia, con me e con il gruppo storico. Prenderete anche da fuori, ragazze nombaresi? Sì, straniere pure o no? Straniere, straniere. Stiamo cercando di tesserare un'americana che vuole venire entusiasta di questo progetto e di questa scelta, di questa società. Stiamo vedendo una francese e una bulgara. Pensiamo che questo mix del nostro entusiasmo e delle mie ragazzine e di queste ragazze di livello internazionale possano dare a Bari il giusto merito. Ci teniamo in contatto allora perché il cammino verso il campionato è ancora lungo. Grazie Isabella Cardone, allenatrice della Pink Bari. Noi ci ritroviamo domani con Bianchi e Rosso TV Sport. Ciao!